La prima volta che ho messo delle scarpe da corsa avevo 11 anni ed erano le vecchie scarpe di mia madre. Nessuno avrebbe mai pensato che quel mondo sarebbe poi diventato la mia vita. Sto correndo bene quando corro morbida e leggera, non pensi a niente, ti concentri solo ed esclusivamente sul tuo corpo e su te stessa. Mollare prima di aver ottenuto quello che voglio non mi piace. Sì c'è il talento, ma la cosa più importante lo fa la costanza che dedichi all'allenamento e soprattutto l'alimentazione è fondamentale.